Finisce l'avventura dei Bonny e Clyde italiani, parliamo di questo su Fan Week con me, io sono Elena. Ebbene sì, è finita l'avventura dei Bonny e Clyde italiani, sono stati arrestati in Thailandia a Pattaya grazie ad un'operazione congiunta dell'Interpol di Roma e della Royal Thai Police. I due italianissimi appunto, si chiamano Francesco Galdelli e Vagna Goffi, sono stati soprannominati Bonny e Clyde italiani perché fra le loro vittime c'era anche George Clooney. Loro avevano realizzato una marca di abbigliamento con il nome dell'attore senza che però George ne sapesse qualche cosa. Sono scappati, si sono nascosti, sono stati pedinati dalla polizia tailandese, sono stati anche sorvegliati con dei droni fino a che sono riusciti appunto a scoprire dove si stessero nascondendo a Pattaya e quindi poi hanno fatto, la polizia ha fatto irruzione e li ha arrestati. Sono stati portati nel centro di detenzione dell'International Bureau di Pattaya appunto in attesa poi dell'estradizione. Insomma finisce così l'avventura di Bonny e Clyde e la giustizia trionfa ancora una volta.